Area 51, il podcast dell'editore. Novità, idee e approfondimenti per i lettori di Area 51 Publishing. Area 51 Publishing è la casa editrice che propone il più ampio catalogo in lingua italiana di contenuti audio sulla crescita personale. Per questo tipo di contenuto il formato audio è ideale, perché è flessibile, leggero, portabile e si adatta alle tue esigenze e ai tuoi tempi. Scarica subito gratis i contenuti audio esclusivi di crescita personale firmati Area 51 Publishing. Iscriviti alla nostra newsletter e sono subito tuoi. Vai su www.area51editore.com slash newsletter www.area51editore.com slash newsletter Salute amici miei, siamo tutti interessati al futuro perché è là che voi ed io trascorreremo gli anni che ci restano da vivere. E rammentate amici, eventi futuri come questo influiranno su di voi nel futuro. Ciao, sono Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind3. In questo audio vorrei farti fare un viaggio nel futuro. Vorrei farti fuggire con la tua mente nel futuro più profondo, più lontano, oltre i confini della nostra conoscenza attuale, un viaggio davvero ai confini della realtà. Oltre le dimensioni che l'uomo conosce ne esiste un'altra, una quinta dimensione senza limite come lo spazio e senza tempo come l'infinito. È la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra l'idea e la sua attuazione, tra la scienza e la superstizione, tra lo scuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la dimensione dell'immaginazione. È una regione che potrebbe essere immaginata ai confini della realtà. In realtà si tratta di un viaggio molto realistico, anzi direi possibile, se non addirittura probabile. Mi sono imbattuto in questo viaggio nel futuro, alcuni anni fa, mentre stavo leggendo un libro che ti consiglio, un libro di un divulgatore scientifico, nonché fisico, di origine giapponese, Michio Kaku. Il libro si chiama Mondi paralleli ed è edito da Codice Edizioni. Nel capitolo 11 di questo libro mi imbatto in questo titolo, Fuga dall'universo, e mi imbatto, per la prima volta, in una citazione magnifica di un grandissimo scrittore, nonché scienziato, Arthur C. Clarke. Citazione che l'ho fatta mia ed è diventata una delle più importanti citazioni di riferimento proprio del mio metodo di guarigione spirituale, Mind3. La frase di Arthur C. Clarke è la seguente. Qualsiasi forma di tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia. E infatti, quello che stai per ascoltare, direttamente dalle pagine di Michio Kaku, che ho il piacere di riportarti, è un viaggio nel futuro che si basa sulle conoscenze tecnologiche e sulle previsioni delle implicazioni dello sviluppo tecnologico. Ma è anche un viaggio, come sentirai, che diventa magico, perché ci porta davvero oltre i confini di tutto quello che pensiamo possibile oggi. È un viaggio che nasce dalla mente di un fisico russo, di nome Nikolai Kardashev. Nikolai Kardashev negli anni Sessanta ha identificato un modo per classificare l'evoluzione tecnologica, l'impatto dell'evoluzione tecnologica sulle trasformazioni sociali globali complessive. Ha classificato questa evoluzione che si basa specificamente sulla trasformazione del consumo energetico, quindi l'evoluzione di una civiltà si basa soprattutto sulla sua capacità di consumare energia e su quale tipo di energia consumare. Sulla base di questi criteri, Nikolai Kardashev ha identificato, classificato l'evoluzione delle civiltà in tre macrocategorie, che ha chiamato civiltà di tipo primo, civiltà di tipo secondo, civiltà di tipo terzo. Potresti pensare che noi facciamo parte della civiltà di tipo primo, e invece no. Ti deluderò, dicendoti che secondo questo tipo di classificazione, la nostra epoca appartiene ancora alla civiltà di tipo zero. E forse ci stiamo, ultimamente con grande fatica e difficoltà avviando verso la transizione nella civiltà di tipo primo. Infatti, la civiltà di tipo primo sorgerà nel momento in cui saremo in grado di sfruttare al meglio, al 100%, le fonti di energia planetaria. Tu dirai, ma le stiamo già sfruttando al 100% queste fonti di energia. No, perché in realtà non stiamo sfruttando, se non a livello più minimo, quella che è la fonte principale di energia del nostro pianeta, ovvero il Sole. Quando perciò arriveremo a sfruttare al 100% l'energia solare, ecco che faremo quel salto che trasformeremo, evolveremo la nostra civiltà da civiltà di tipo zero a civiltà di tipo primo. Ecco allora il nostro viaggio nel futuro, la nostra fuga con l'immaginazione scientifica nel futuro dell'evoluzione della civiltà, della nostra civiltà, a partire dalle trasformazioni dell'utilizzo dell'energia. Come abbiamo detto, le civiltà di tipo primo sono quelle che hanno imparato a sfruttare le fonti di energia planetarie. Il loro consumo di energia, ci dice Michio Kaku, è misurabile con precisione. Per definizione, infatti, le civiltà di tipo primo sono quelle, come abbiamo detto, che sono in grado di utilizzare al 100% l'energia solare che giunge sul loro pianeta, che corrisponde a 10 alla sedicesima watt. Con una tale quantità di energia, le civiltà di tipo primo potrebbero controllare o modificare il clima, deviare gli uragani o costruire città sull'oceano. Civiltà di questo tipo sono padrone assolute del loro pianeta. Una civiltà di tipo secondo ha esaurito l'energia di un singolo pianeta e ha imparato a sfruttare tutta la potenza di una stella, vale a dire più o meno 10 alla ventiseiesima watt. Civiltà di questo tipo potrebbero essere capaci anche di controllare i brillamenti solari e perfino di far accendere nuove stelle. Una civiltà di tipo terzo ha esaurito la potenza disponibile in un singolo sistema solare e ha colonizzato una vasta porzione della propria galassia. Una civiltà di questo tipo è in grado di utilizzare l'energia generata da 10 miliardi di stelle, ovvero all'incirca 10 alla trentaseiesima watt. Ogni tipo di civiltà differisce dal tipo inferiore per un fattore 10 miliardi. In altre parole, una civiltà di tipo terzo che è capace di sfruttare l'energia di miliardi di sistemi stellari ha a disposizione un'energia 10 miliardi di volte maggiore di quella a disposizione di una civiltà di tipo secondo. Questa, a sua volta, utilizza un'energia 10 miliardi di volte superiore a quella di una civiltà di tipo primo. Per quanto possa sembrare astronomico il divario che separa i vari tipi di civiltà, è possibile stimare il tempo che servirebbe per dare vita a una civiltà di tipo terzo. Facciamo l'ipotesi che le emissioni energetiche di una civiltà crescano ogni anno di un modesto 2 o 3%. È un'ipotesi plausibile dato che la crescita economica, che può essere stimata in maniera ragionevole, è legata direttamente al consumo di energia. Al crescere dell'economia cresce il suo fabbisogno energetico. Dal momento che la crescita del prodotto interno lordo o PIL di molte nazioni è compresa tra l'1 e il 2% all'anno, possiamo attenderci che il loro consumo energetico cresca più o meno allo stesso modo. Dunque, con un tasso di crescita di 2 o 3%, un tasso di crescita così basso, perciò, possiamo stimare a 100 o 200 anni il tempo necessario alla nostra civiltà per raggiungere lo status di civiltà di tipo primo. Ci vorranno invece approssimativamente da 1000 a 5000 anni per diventare una civiltà di tipo secondo e forse da 100.000 a 500.000 anni per arrivare alla civiltà di tipo terzo. come dicevo, su una scala simile la nostra civiltà attuale può essere definita di tipo zero dato che l'energia viene ricavata da combustibili fossili, cioè piante morte, petrolio e carbone. Persino il controllo di un uragano, il cui potenziale energetico è pari a quello di centinaia di bombe atomiche, va al di là delle nostre capacità tecnologiche. di un uragano, di un uragano, di un uragano. è la tua ultima occasione se rinunci non ne avrai altre pillola azzurra fine della storia domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che porrai pillola rossa resti nel paese delle meraviglie e vedrai quant'è profonda la tana del bianconiglio come abbiamo detto la nostra civiltà può essere classificata dunque come civiltà di tipo zero un grande scienziato e scrittore Carl Sagan l'autore fra l'altro del romanzo Contact divenuto poi film diretto da Robert Zemeckis ha proposto ulteriori classificazioni o sottoclassificazioni delle civiltà essenzialmente basandosi sulla misura del 10 che è il rapporto che vi è tra una civiltà e un'altra rispetto al consumo di energia 10 miliardi come abbiamo detto Carl Sagan ha suddiviso le civiltà in ulteriori 10 sottotipi e sulla base di questa ulteriore classificazione la nostra civiltà si avvicina più o meno a un livello di 0,7 non siamo perciò lontanissimi da una civiltà realmente planetaria ovvero una civiltà di tipo primo ma manca ancora perlomeno un 30% sebbene perciò la nostra civiltà sia ancora alquanto primitiva si vedono già i primi segnali di una transizione ecco alcuni elementi internet è un sistema emergente di tipo primo ha i requisiti per diventare l'ossatura di una rete di comunicazione planetaria veramente universale l'economia di una società di tipo primo non sarà dominata dalle nazioni ma da vasti blocchi commerciali simili all'Unione Europea o naturalmente agli Stati Uniti d'America La lingua della società di tipo primo sarà con ogni probabilità l'inglese che è già la seconda lingua più importante del pianeta In molti paesi del terzo mondo ormai i ceti alti e le persone con un'educazione universitaria tendono a parlare sia l'inglese che la lingua locale L'intera popolazione di una civiltà di tipo primo potrebbe essere bilingue in tal senso cioè parlare una lingua locale e una lingua planetaria Un altro elemento è il seguente anche se continueranno a esistere per secoli gli stati nazionali diventeranno sempre meno importanti per la caduta delle barriere commerciali nonostante i tentativi antistorici che stiamo vivendo in questo periodo per esempio con i dazi commerciali voluti dal presidente degli Stati Uniti in carica attualmente nel 2019 ovvero Donald Trump ma sono tentativi appunto antistorici anacronistici se è vero che la spinta non si può fermare la spinta tecnologica la spinta della evoluzione planetaria non si può fermare e vi è una ragione molto semplice per cui questi tentativi si rivelano dei fallimenti al di là del fatto che si rivelano dei fallimenti anche dal punto di vista economico perché innescano dei processi delle reazioni a catena che diventano dannose per tutti anche per chi ha voluto instaurare questi dazi questi impedimenti per avvantaggiare la propria economia ma al di là di queste considerazioni vi è un elemento fondamentale che impedisce che questi tentativi possano avere successo sul medio o sul lungo periodo e questo elemento è la sempre maggiore interdipendenza economica mondiale gli stati moderni nacquero in parte ad opera di capitalisti e di chi voleva un sistema unico di valuta di frontiere di tasse e di leggi su cui basarsi per fare affari nel momento in cui gli affari assumono una natura sempre più internazionale le frontiere che ci piaccia o no diventano sempre meno rilevanti nessuno stato può da solo fermare la marcia verso una civiltà di tipo primo anche le guerre cambiano notevolmente in questa transizione probabilmente esse non ci abbandoneranno mai ma la natura della guerra cambia e cambierà sempre di più con l'emergere di una nuova borghesia planetaria più interessata al turismo e all'accumulo della ricchezza e delle risorse che alla dominazione di altri popoli o al controllo di un mercato o di una particolare regione la lotta all'inquinamento è un altro elemento di transizione essa assumerà sempre di più un carattere globale problemi come i gas serra le piogge acide la distruzione della foresta pluviale trascendono i vari confini nazionali la pressione esercitata dalle nazioni vicine sui paesi inquinanti perché pongano riparo ai danni causati non verrà mai meno lo vediamo già oggi per esempio con quello che sta accadendo nel Brasile del presidente Bolsonaro e nella distruzione della foresta amazzonica che forse per la prima volta nella storia planetaria è diventata veramente un'emergenza planetaria ovvero sentita da tutte le persone di tutto il mondo questo esempio ti dimostra che la comprensione dei problemi ambientali sta diventando sempre più globale e che diventerà sempre più globale anche la pressione dei vari paesi sui paesi più inquinanti e diventerà sempre più globale la necessità di gestire questi problemi e di trovare soluzioni a questi problemi un altro elemento di transizione dalla nostra civiltà di tipo 0 alla civiltà di tipo 1 è determinato dal fatto che con la graduale saturazione delle risorse per esempio la disponibilità di pesce grano e acqua causata dall'eccesso delle colture intensive da un lato e dei consumi dall'altro aumenterà la pressione a favore di una gestione globale delle risorse come unica alternativa alla carestia e al collasso tutte queste forze sfuggono al controllo del singolo individuo o della singola nazione internet anche se gli stati ce la mettono tutta in particolare gli stati più dittatoriali non può essere bandita e così non possono essere bandite frenate o rimosse tutte le altre pressioni di trasformazione questo ci dimostra che la transizione dal tipo 0 al tipo 1 di civiltà è anche la fase più rischiosa perché dimostra ancora quella brutalità che ci dice Michio Kaku ha caratterizzato la nostra specie fin dall'uscita dalle foreste in un certo senso l'evoluzione della nostra civiltà è una corsa contro il tempo da un lato infatti il cammino verso una civiltà planetaria di tipo primo potrebbe garantirci un'era di pace e prosperità senza precedenti ma dall'altro le forze dell'entropia l'effetto serra l'inquinamento la guerra nucleare il fondamentalismo le malattie possono ancora distruggerci l'evoluzione l'evoluzione per uno che non doveva far parte di questo mondo devo confessare che all'improvviso mi costa lasciarlo però dicono che ogni atomo del nostro corpo una volta apparteneva a una stella forse non sto partendo forse sto tornando a casa immagina ora di essere riuscito ad avanzare immagina che l'umanità sia arrivata alla civiltà di tipo primo vediamo come sarà questa civiltà più nel dettaglio è improbabile che una civiltà che abbia raggiunto lo status di tipo primo punti immediatamente alle stelle è più probabile invece che resti sul proprio pianeta per secoli abbastanza a lungo da risolvere ciò che resta delle passioni fondamentaliste razziali e settariste del passato gli scrittori di fantascienza tendono a sottostimare le difficoltà associate ai viaggi interplanetari e alla colonizzazione dello spazio oggi per mandare un qualsiasi oggetto in orbita intorno alla terra si spende una cifra compresa tra 10.000 e 40.000 dollari alla libra una libra è pari a circa 0,450 chilogrammi se prendiamo il costo totale del programma Space Shuttle e lo dividiamo per il numero delle missioni troviamo che ogni viaggio della navetta spaziale costa più di 800 milioni di dollari è probabile che il costo dei viaggi spaziali diminuirà nei prossimi decenni ma solo di un fattore 10 con l'arrivo dei vettori cosiddetti RLV reusable launch vehicles vettori cioè che possano essere riutilizzati immediatamente per un'altra missione per buona parte del ventunesimo secolo i viaggi spaziali resteranno però un'opzione dal costo proibitivo salvo che per le persone e per le nazioni più ricche c'è una sola eccezione possibile a questa situazione lo sviluppo degli ascensori spaziali i recenti progressi nel campo delle nanotecnologie hanno reso possibile la produzione di filamenti composti di nanotubi di carbonio ultra resistenti e ultra leggeri in teoria è possibile che tali filamenti di atomi di carbonio si rivelino abbastanza resistenti da collegare la terra con un satellite geostazionario in orbita a 36.000 km dal suolo si potrebbe così raggiungere lo spazio salendo lungo la fibra di nanotubi a una frazione del costo attuale finora gli esperti di scienze spaziali avevano scartato l'idea degli ascensori spaziali poiché la tensione del cavo sarebbe stata eccessiva per qualsiasi fibra conosciuta la tecnologia basata sui nanotubi di carbonio però potrebbe cambiare le cose la nasa sta finanziando degli studi su questo argomento e nei prossimi anni potremmo assistere a una importante evoluzione in questo settore ma anche se la tecnologia si dimostrasse praticabile un ascensore spaziale potrebbe portarci tutt'al più in orbita intorno alla terra e non sarebbe certo utilizzabile per raggiungere altri pianeti il sogno della colonizzazione dello spazio deve essere visto alla luce del fatto che le missioni umane sulla luna e sui pianeti sono molto più costose delle missioni orbitali terrestri se nei viaggi di cristoforo colombo e dei primi esploratori spagnoli che erano limitati al globo terrestre il costo di una nave non era che una frazione piccolissima del prodotto interno lordo della spagna e il profitto potenzialmente era immenso la fondazione di colonie sulla luna e su marte provocherebbe la bancarotta di molte nazioni senza portare praticamente alcun beneficio economico diretto una sola missione con equipaggio umano su marte potrebbe costare una cifra compresa tra 100 e 500 miliardi di dollari in cambio di ben poche prospettive di guadagno bisogna considerare inoltre il pericolo per i passeggeri dopo mezzo secolo di esperienze con i razzi a propellente liquido c'è una probabilità su 70 che il lancio di un razzo si concluda in modo catastrofico con così tanto carburante esplosivo e così tanti pericoli per la vita umana i viaggi nello spazio resteranno per decenni una scelta rischiosissima nell'arco di qualche secolo però la situazione potrebbe cambiare gradualmente siamo sempre nella civiltà di tipo primo con la continua diminuzione del costo dei viaggi nello spazio su Marte potrebbero venire fondate le prime colonie ragionando su una scala temporale di questo tipo alcuni scienziati hanno addirittura proposto alcuni meccanismi ingegnosi per terraformare Marte ad esempio deflettendo una cometa e facendola vaporizzare nell'atmosfera marziana così da arricchirla in vapore acqueo altri hanno proposto di iniettare del metano nell'atmosfera per creare un effetto serra artificiale sul pianeta rosso in tal modo la temperatura aumenterebbe facendo sciogliere progressivamente il permafrost presente sotto la superficie marziana i laghi si riempirebbero e l'acqua scorrerebbe nei fiumi per la prima volta dopo miliardi di anni altri ancora hanno proposto soluzioni più estreme e pericolose come fare esplodere un ordigno nucleare sotterraneo sotto le calotte polari per fonderne il ghiaccio il che però costituirebbe un pericolo per la salute dei futuri coloni spaziali si tratta comunque di suggerimenti assolutamente teorici è molto più probabile che una civiltà di tipo primo dia alle colonie spaziali una priorità molto bassa per qualche secolo per quanto riguarda le missioni interplanetari a lunga distanza invece per il quale il tempo non è un fattore cruciale lo sviluppo di un motore ibrido solare e a ioni potrebbe costituire una nuova forma di propulsione per viaggiare tra le stelle si tratterebbe di motori lenti in grado di generare una spinta limitata ma di mantenerla per più anni consecutivi essi concentrerebbero l'energia solare per riscaldare un gas ad esempio del cesio ed espellerlo poi dagli scarichi generando così una spinta moderata che potrebbe essere mantenuta quasi indefinitivamente dei vettori dotati da motori del genere sarebbero la soluzione ideale per creare un sistema autostradale interplanetario tra i pianeti una civiltà di tipo primo infine potrebbe inviare delle sonde sperimentali verso le stelle più vicine visto che il limite ultimo alla velocità di un razzo a propellente chimico è data dalla velocità massima dei gas negli scarichi del razzo i fisici dovranno trovare una forma di propulsione più esotica per sperare di superare distanze dell'ordine di centinaia di anni luce una soluzione possibile sarebbe quella di progettare un autoreattore a fusione ossia un razzo che raccoglie l'idrogeno dello spazio interstellare per fonderlo riuscendo così a generare quantità di energia praticamente illimitate tuttavia la reazione fusione fusione è già difficile da ottenere sulla terra figuriamoci nello spazio in un'astronave per una tecnologia del genere ci vorrà almeno un secolo area 51 publishing è la casa editrice che propone il più ampio catalogo in lingua italiana di contenuti audio sulla crescita personale per questo tipo di contenuto il formato audio è ideale perché è flessibile leggero portabile e si adatta alle tue esigenze e ai tuoi tempi scarica subito gratis i contenuti audio esclusivi di crescita personale firmati area 51 publishing iscriviti alla nostra newsletter e sono subito tuoi vai su www.area51editore.com slash newsletter www.area51editore.com slash newsletter www.area51editore.com